Più di 50 milioni, tanti sono secondo un ultimo rapporto dell'Unicef, i bambini oggi sradicati dalle loro case e da loro paesi di origine. In aumento anche il fenomeno dei cosiddetti minori non accompagnati, ovvero bambini migranti, che da soli attraversano mari e frontiere alla ricerca di sicurezza e di una vita migliore, 100.000 soltanto nel 2015. Ma qual è la situazione in Europa? Tra migranti arrivati nel vecchio continente dal 2014, molti sono appunto minori. Tra burocrazia e rimpalli tra le capitali, molti vedono negarsi l'istruzione e più in generale l'infanzia. Ma cosa si può fare? Per Ted Chayban dell'Unicef è importante reagire in modo veloce e garantire ai minori la rappresentazione legale. Le richieste di asilo devono essere trattate con precedenze, in modo da riconoscere subito se si tratta di rifugiati o migranti. Si deve poi procedere alle riunificazioni familiari nei casi in cui è possibile fare in modo che abbiano accesso a distruzione e altri servizi di base. Vulnerabili e spesso soli, i bambini migranti sono le principali vittime di trafficanti e reti criminali.